Musica Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e la Rosso TV Sport. Continuiamo ad analizzare quello che è stato il pareggio di Ascoli. Sabato si torna al San Nicola contro la Reggiana. Una Reggiana in difficoltà tra infortuni e squalifiche. Mercato ancora aperto e capiremo anche quali saranno le prossime mosse del direttore sportivo Ciro Pulito. Ne parliamo in studio come ogni mercoledì con la nostra Jessica Ramos. Ciao Jessica, benvenuta. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ed è tornato nuovamente a trovarci il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo. Ciao Antonello, benvenuto, buon pomeriggio. Ci hai preso gusto ormai, eh? Mi hanno costretto gli polvere. A grande richiesta, a grande richiesta. L'intervista flash l'ha realizzata il nostro Michele Carofiglio con Matino. La vedremo nel corso della seconda parte. Chiaramente, Jessica, a te il compito di raccogliere anche gli umori del popolo bianco-rosso. Antonello, a te invece la prima analisi anche poi su quello che è stato il pareggio del Bari ad Ascoli. L'ennesima occasione sprecata per l'ennesima. La settima rimonta subita dal Bari in questo campionato. Io francamente sono stato abbastanza severo nella mia analisi perché quando un problema si ripete vuol dire che c'è qualcosa che è dentro la struttura. Non credo la fortuna. L'anno scorso sembrava che gli episodi andassero tutti a favore del Bari, ma io ricorderai che non esiste la fortuna quando una squadra ha sempre un certo tipo. Il Bari, anche quando giocava male, trovava in ogni partita quasi sempre l'episodio che lo esaltava. Stavolta accade il contrario. Evidentemente il Bari è una squadra che fa fatica ancora ad avere una propria identità tattica. Perché io l'ho chiamata una sconfitta ad Ascoli. Oltre che un'occasione persa, è un'altra dimostrazione di una squadra che è ancora lontana dall'essere una squadra competitiva. Perché poi bisogna mettersi d'accordo. Se diciamo che l'Ascoli non è granché, poi non possiamo stare a ragionare che c'era un giocatore forte sulla fascia, dovevamo fare quello per fronteggiare. Una squadra forte, al di là di chi gioca, riesce un attimino sul piano della personalità, della proposizione. Poi il Bari, ho letto molte cose, ho ascoltato molte cose, si è parlato del cambio, che può essere discutibile indubbiamente, ma il Bari non ha cominciato a difendersi dopo il cambio. Per come ho visto la partita io, il Bari ha cominciato ad arretrare già dopo la mezz'ora. e ha arretrato ancora di più in avvio di ripresa e dopo il cambio ha continuato così. Quindi comunque non è andato nulla per me, per come poi anche Marino presenta il suo calcio, che io francamente continuo a vedere in qualche momento. Ma il Bari non è ancora una squadra che ha una sua identità tattica, perché è una squadra che ha una sua identità anche con la Ternana. Non fa mezz'ora che quasi non vede il pallone. Quindi è un lavoro ancora lungo che... Cioè io c'è un fatto di personalità che manca a questa squadra, magari anche una questione fisica, perché spesso, Antonello, vediamo il Bari calare nel secondo tempo, quindi magari di qualche calciatore che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Però ci sono tanti aspetti che poi portano questa squadra a subire delle rimonte che stanno penalizzando il cammino. Però io francamente... Perché poi non si riesce a gestire sistematicamente il vantaggio. La parte atletica, diciamo, dovremmo chiedere al professor Durbano, loro fanno dei test. Abbiamo visto i giocatori, cito, Maita e Schumacher, che dopo un ottimo primo tempo nella ripresa quasi boccheggiavano. Però questo francamente un po' mi inquieta. Anche quando ho sentito dire che anche Dorval sarebbe crollato perché marcava, credo, Roberto Carlos, il suo caso di Lascoli, e quando Dorval credo che una cosa è indubitabile, che è un giocatore che corre 90 minuti, è inquietante se ci sono giocatori che a metà tempo, giocando in mezz'ora sul velluto, contro Lascoli, che tutti poi hanno detto unanimemente che fosse una squadra scarsa e in difficoltà, perché perdeva 2-0, fischiata, terz'ultima... E se tu arrivi a 25, 26, 27 anni o 21 anni in Orval, che scoppi al primo tempo con un fior di preparatore atletico, qualcuno magari non ha giocato moltissimo, però io rimango... mi preoccupo ancora di più. Io spero non sia così, perché se davvero c'è qualcuno che dopo 45 minuti boccheggia... Anche se in quel caso, torniamo alle scelte di Marino, magari anche alla gestione delle sostituzioni, non discuto poi sul cambio, però la gestione delle sostituzioni. Io avrei cercato, sì, di cambiare l'inerzia, magari inserendo qualche giocatore in grado di ribaltare l'azione, visto che il Marino non ripartiva... Anche per l'Antonio, si parlava sempre di mancanza di giocatori in rosa, adesso, soprattutto in questa partita, la scelta c'era per quanto riguarda gli uomini offensivi, ma anche i centrocampisti. Allora, Mario ci parla di mentalità. Noi abbiamo cambiato Marino, perché avevamo in panchina... Io scherzo su questa cosa qui... Un pirla che pensava solo a difendersi, no? Allora, se tu fai un calcio propositivo, e Marino l'ho sempre fatto io, lo ritengo un allenatore preparato... Lo stiamo anche vedendo a spazi, come dicevi. Allora, lui dice, la squadra di difficoltà, io mi metto Puccino per... No, tu cerchi la squadra, vuoi una squadra che sia propositiva. Io cerco con un cambio di ribaltare l'inerzia del match. Cioè, invece di difendermi e basta, il Bari è ripartito una volta, ha fatto un'occasione con Nasti, credo. Ma poi dal 2-0 al ventesimo... Perché è chiaro che è una mossa che inevitabilmente dà coraggio alle avversarie... Lui dice, ma io volevo frenare la sofferenza. E ma se noi per frenare la sofferenza con l'Ascoli in difficoltà dobbiamo mettere un difensore, e vuol dire che la squadra nel complesso ancora non riesce a produrre un calcio di possesso, un calcio di dominio del gioco. Che non vuol dire andare a pressare all'area avversaria quando sei in vantaggio 2-0. Ma sicuramente non stare lì, quando questo accade anche, io faccio sempre i paragoni col tennis. Se tu c'è un giocatore che sta giocando male, ma tu gli dai spazio, l'Ascoli è cominciato male, non riusciva a fare tre passaggi in fila, ma tu lo fai giocare... L'abbiamo rimesso noi in corso. Si, è cresciuto col passare dei minuti, perché ha giocato tanti palloni. Allora una squadra che, Marino ci ripete sempre, che deve essere una squadra nata per proporre gioco, e proponiamolo. Magari prendiamolo 2-2 per cercare di giocare un po' la palla. Se no, non diciamo più che il Bari è una squadra propositiva, se non lo sei nemmeno in queste condizioni. Torno a dire, Bari-Ternana, tu mezz'ora, sei rimasto lì in ebetito a guardarla giocare la Ternana. Poi, quando hai premuto sull'acceleratore, non c'è stata partita. E si è stato un increscendo nella Ternana, mentre che magari contro l'Ascoli... E' stata un'eccezione quella, perché il Bari di solito ha fatto con Marino sempre un buon primo tempo. Sì, un buon primo tempo, dei cali nella ripresa. E poi sempre alla fine, però, si dice che il Bari ha fatto buoni primi tempi, ma mai i risultati non è qui. I pareggi che il Bari ha fatto, alla fine, tutti giusti. Noi pareggi giusti, sì. Magari l'episodio sfortunato, sì. Quindi voglio dire, non è che abbia fatto queste grandi partite, è giocare male un tempo. È troppo. Io una volta abbiamo fatto una mezzalite con Eugenio Fascetti, il mitico Fascetti, perché noi diciamo, abbiamo giocato bene, per 20 minuti siamo capi... Ma 20 minuti in una partita è tanto. Il tennis si decide in due minuti. Tu perdi due punti, prendi break e giochi male l'altro game. Quindi figuriamoci un tempo. Ora è chiaro, Marino ci dirà che sta lavorando. Sono arrivati giocatori, anche Puskas, mi è sembrato in non in condizioni. È chiaro che Marino non è che lo possiamo crocidiggere. Però se abbiamo questi problemi anche atletici, pensare positivo diventa in questo momento complicato, anche se rimango convinto, e mi taccio poi, l'ho detto anche in tempi grigi, che il Bari abbia la possibilità sicuramente di arrivare ai play-off. Perché davanti abbiamo il Brescia, il Modena, non è che abbiamo il Venezia o il Parma. L'obiettivo minimo deve essere quello. Secondo me si può raggiungere, sperando che crescano alcuni uomini chiave. Jessica. Sì, infatti ci sono molti tifosi che dicono è possibile che magari noi siamo l'unica squadra che i giocatori non riescono a durare appunto 90 minuti? Cioè è possibile che... Ma siamo convinti che questo... A Ramu siamo andati avanti per due mesi, compreso me, quel giorno dissi io non lo ripeterò più. Basta. Che non era in condizioni fisiche. Siamo convinti che sia questo. A Campora lo stesso. Però in quel caso, proprio perché ci sono, Antonello, i cinque cambi, io da quel punto di vista penso che anche un tecnico debba ragionare su questo, perché magari se vedo che Jumà sta uscendo dalla partita, se vedo che Maite ha difficoltà, ho cinque cambi, in quel caso prova di intervenire. Poi qualcuno ha detto che, non credo che l'abbia detto Marino, che Callon sarebbe uscito per l'ammunizione. No, l'ha detto lo stesso calciatore. Il calciatore qui ai nostri studi ha detto io avevo ancora... Da dare. Da dare, sì. Aveva ancora... Aveva altre energie. Da dare qualcosa, però soprattutto per quella munizione, forse il tecnico mi ha sostituito. Infatti la battuta anche, le l'hanno girata anche i nostri tifosi. Cioè, mi raccomando, due partite, due cartellini. Qualche minuto ce l'aveva ancora, almeno una decina di minuti ce l'aveva. Perché se io posso capire un difensore, che a volte gli allenatori fanno attenzione, o se c'è un giocatore che ha una crisi di nervi, io lo tolgo. Però torniamo al solito discorso. Non metto un uomo offensivo, decido di mettere un terzino. Qui abbiamo ingrandito il caso Moracchioni, che sta facendo impazzire molti tifosi. Non si spiegano questo. Io francamente non vedo una cosa clamorosa, il fatto che un giocatore possa non essere impiegato, perché sono scelte. Non è che Moracchioni sia un fenomeno. Però indubbiamente, poi Marino spesso in conferenza dice quel giocatore importante a Campora e quello è così, quello è quella. Poi non giocano nemmeno un minuto. Quindi c'è qualcosina che ancora lui sta completando, secondo me, un processo di valutazione globale degli uomini a disposizione. Si deve attaccare anche a quegli sprazzi, perché anche, dicevi bene, per mezz'ora si vede anche un bel bari. Anche abbiamo visto il secondo gol molto bello. Anche in verticale, veloce. Una squadra anche brava ad aggredire la fase di aggressione. Però perché poi dopo non si fa più? Magari non lo fai 40 metri avanti, lo fai con un po' più di continuità. Quindi, ora, questo discorso atletico, io rimango un po' dubbioso che calciatori professionisti possano essere con la lingua da fuori dopo un tempo. Anche Jumaha, che ha giocato un secondo tempo, credimi, inquietante per pochezza tecnica, già nel primo tempo ha fatto in mezzo a cose molto buone. Molto buone. Due, tre passaggi. Io scherzo a volte con i colleghi, perché dico, vede libero e serve l'avversario. A un certo punto era sul lato sinistro dell'area. Ha cercato, credo, un passaggio di collo all'Atolino Sereso o all'Almiron e ha passato, proprio era tutto libero, a un avversario che lì era di fronte e gli ha passato la palla. Quindi lui, secondo me, già a primo tempo, ma secondo me non era stanchezza. Lui quegli errori li fa. Li fece anche una partita in casa in cui aveva alternato giocate importanti a lisci con tibiate improbabili. Quindi è un giocatore che secondo me è cresciuto, però come ha detto Enzo Tamborra in una domenica, in un commento, a oggi che possa essere il titolare di una squadra ambiziosa mi sembra troppo. Poi, se il campo mi smentirà, ne sarò felice. Anche perché comunque dei segnali di crescita li sta dando. Assolutamente. Un giocatore molto intelligente, si inserisce bene. Tatticamente, negli inserimenti, quindi dei segnali di ripresa sicuramente li sta dando. Andiamo in pausa pubblicitaria tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione e la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Guccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andrea. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico dell'industria 4.0 del sistema idrico e del sistema casa. ITS meccatronicapuglia.it ITS Guccovillo, il futuro ora. Audacia, azione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Yatija 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ancora più saldi a City Moda. Trovi tutto al 50% nei reparti donna e bimbo su un'ampia selezione di articoli. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. questa è una storia che conosci già. È una storia di valori, una storia di qualità, una storia di vicinanza, una storia di convenienza, una storia di amicizia, una storia che diventa ogni giorno più forte che mai. prodotti a marchio Sigma nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre. Scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it Segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. I saldi di Sport Club sconti dal 30 al 60% sull'abbigliamento Nike, Adidas, Puma, Under Armour. Inoltre, grandi saldi su scarpe da running, tennis e paddle, Asics, Brooks, Oca. Visitate il Megastore a Bari in Corso Cavour 116. I saldi di Sport Club. Farmacia Cavallo sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Codaliro, Sposè e tanti altri. Integratori alimentari per ogni esigenza come Neymed, Denarzona, Enervit e Gymline. Oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come consegne a domicilio, tampone rapido, ECG, altercardiaco, oppressorio, profilo lipidico. Scegli Farmacia Cavallo. La tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio 12esimo 48B a Bari. Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport in studio sempre Jessica Ramos e il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Antonello Raimondo. Jessica da te per i messaggi anche dei tifosi bianco-rossi. Sì, tantissimi sono curiosi di sapere come va Francesco Vicari. Possiamo dire che si è allenato con la squadra come potete vedere in questo video. Oggi si è allenato parzialmente in gruppo però non c'è nessun allarmismo rispetto poi al fastidio alla Caviglia accusato contro l'Ascoli salvo davvero imprevisti sarà regolarmente in campo sabato contro la Reggiana mancherà ancora di Cesare oltre a Dio e a Ramo che continuano a svolgere lavoro differenziato. Sì, dell'altro calciatore che hanno chiesto è di Cuzzupias effettivamente qua lo vedete lui ha mandato un messaggio ai tifosi nel quale dice che sta bene che spera di arrivare il prima possibile e ce la metterà tutta per migliorare presto. Un augurio di pronta corrigione a Cuzzupias in una stagione sfortunatissima perché tre crociati in mezzo campionato sono praticamente un record Menez ha recuperato a tempo di record così sta facendo Maiello auguriamo una pronta corrigione a Cuzzupias a proposito Sì Antonello lo dico anche Menez e Maiello hanno fatto recuperi Sì, recuperi Lampo Lampo a proposito di Cuzzupias prima parlavi di centrocampo di Ejouma secondo te serve un'altra mezzala a questa squadra poi bisogna capire cosa ne sarà di Acampore si libererà eventualmente un posto in lista Faccio una domanda l'obiettivo qual è? Perché se l'obiettivo è l'ottavo posto e ti devi dissanguare o rischiare io lascio le cose come stanno e tu vuoi cercare di alzare il livello qualitativo della rosa prendendo un giocatore fatto non che viene da un anno di stop o che è un ragazzo bravo non è il momento di scommesse allora io cercherei ma una certezza un'altra domanda a gennaio trovi giocatori che fanno la differenza è difficile anche perché quei pochi che ci sono serve l'argento perché l'obiettivo sì deve essere quello di entrare in playoff e poi giocartela giocartela cioè per andare lì io voglio cercare di andare in Serie A a oggi io credo ma l'ho detto anche due o tre mesi che può raggiungere la posizione di playoff però non la vedi competitiva rispetto agli altri non mi sembra in grado di andare in Serie A però io mi farei al pubblico ludibrio mi lascerei se dovessi essere smentito quindi il mercato nasce con quella domanda qual è l'obiettivo e qual è l'obiettivo della società cioè se la società pensa che sia un obiettivo possibile quindi stanzia un budget di un certo tipo perché non è che giriamo attorno Polito è stato bravo a prendere giocatori anche con le idee però poi quando tu vuoi vincere serve anche andare sul sicuro se no sarebbe facile se ogni squadra si affidasse alla competenza che Polito ha dimostrato in tante occasioni però sempre così no è difficile che ti rieschi infatti quest'anno le cose addirittura quest'anno ha preso più certezze dell'anno scorso e la ruota li si è girata perché gli acampora quei giocatori lì sono giocatori che hanno fatto tanta Serie B l'anno scorso è andato tutto bene con bravura quest'anno è andata meno bene capiremo anche poi l'impatto di noi perché Callon ha avuto un buon impatto due partite e due assist vincenti agli altri va dato tempo possiamo bocciarli deve recuperare lo stesso Lulic lo abbiamo visto ancora in ritardo si vede che è un giocatore in ritardo quando parlavo di scommesse Lulic ha fatto quest'anno credo 18 minuti a febbraio ha fatto un crociato poverino non potrà mai essere al top prima di 5-6 partite ma quasi intere i tifosi riguardo agli nuovi acquisti parlano non soltanto della mezzala di strapo per riprendere magari i vecchi Floruncio e Benedetti ma parlano anche dei difensori centrali io vorrei chiederti se anche tu saresti anche dell'idea di prendere un altro difensore centrale io l'ho detto in estate ma anche là la domanda è sempre quella se il Bari deve arrivare ottavo possiamo rimanere così se vogliamo fare un salto di qualità e non stare sempre lì che di Cesare non si può fare male ne servirebbe un altro quindi io io per me sì per me sì ma non perché non mi fido di Matino e Zuzzi perché mi sembra che quando giocano di Cesare i Vincari e quando giocano gli altri sia un altro tipo di livello quindi io prenderei un terzo centrale che sia alla pari anche qui però domanda trovi un difensore centrale forte il 28 gennaio non è facile a caso abbiamo incrociato le dita poi a quell'infortunio di Vicari lui senza di Cesare però mi sa che da questo punto di vista proprio Polito non sia d'accordo sull'esigenza di prenderlo no no perché lui considera Matino e Zuzzi alternative comunque importanti a Vicari e di Cesare allora sentiamo proprio le parole di Matino in questa intervista flash rilasciata al nostro Michele caro figlio Matino sì sicuramente questi due punti persi diciamo Ascoli ci potrebbero aiutare agganciare il playoff però ci servirà anche diciamo per la situazione salvezza in questo momento noi puntiamo prima alla salvezza e poi dopo tanto il campionato è lungo pensiamo prima alla salvezza e poi dopo puntiamo ai playoff è la settima volta che il Bari si fa rimontare in questo campionato ti chiedo secondo te perché si è verificata molte volte in stagione questa situazione sicuramente mancanza di concentrazioni sai come la Serie B è una categoria importante dove ci sono i giocatori che hanno le loro giocate importanti sono giocatori forti e appena cagli un po' di concentrazione non sbagliano Manuele piano piano hai scalato le gerarchie con l'infortunio di Cesare sei diventato titolare in difesa ti chiedo come stai vivendo questo momento quanto impegno poi ci hai messo per convincere il mister nelle scelte va bene non è che ho scalato le gerarchie oppure che non ho superato Gianni il mister in questo momento ha deciso me al prossimo può decidere Gianni sicuramente ho dato fiducia al mister durante gli allenamenti spero di tagli ancora di più la fiducia la prossima sfida con la Reggiana in giro nel diandata hai fatto il tuo esordio in questo campionato proprio contro questa squadra li hai già affrontati ti chiedo cosa ti aspetti da questa partita visto che il Bari deve vincere contro questo avversario per riprendere il cammino sì è un avversario diciamo che c'è un bel gioco è una squadra forte sì noi puntiamo a vincere l'importante è non perdere queste sono le parole di Mattino contento poi della fiducia che gli sta dando il mister in queste settimane ha scavalcato possiamo dire Zuzzec alle spalle di Vicari di Cesare lo ritiene affidabile Antonello devo dire che mi ha sorpreso nel senso che un giocatore che va in campo pochissimi minuti come è capitato a Mattino quindi è difficile proprio per questo particolare ha fatto molto bene ha fatto qualche sbavatura non mi sento di dare un giudizio definitivo sulla sua affidabilità diciamo che non è andato male mentre Zuzzec mi è spiaciuto perché ha fatto delle buone prestazioni ma ha sempre dicevo un vecchio allenatore del Bari Guido Carboni si può dire la mezza parola sempre una cagata in canna ogni tanto fa buone prestazioni però un errore grave che per un difensore diciamo è grave tornando invece agli acquisti Puskas comunque lo ritieni il centramenti giusto per questa squadra ti aspettavi altro come caratteristiche considerando poi le difficoltà anche del mercato Antonio Lodi gennaio allora al Bari mancavano i gol mancava un centravaldi sulle caratteristiche Puskas lo dicono i numeri non è un bomber non è l'uomo che ti riempie di gol se mi chiedi cosa penso di Puskas dico che è un buon giocatore perché è un attaccante completo che sa attaccare la profondità che sa è tecnico è fisico è anche tecnico lui mi aspetto che sia stato un acquisto mirato cioè che il Bari cercasse uno con quelle caratteristiche cioè non con la prima punta classica ma con un centravanti un po' più diciamo di movimento di più value quindi si hanno preso Puskas evidentemente cercavano quello Polito spesso ha parlato gli attaccanti non deve essere per forza la prima punta classica il coda di cui si è parlato spesso in passato quindi se cercavano quello è un ottimo acquisto se cercavamo un bomber classico allora no sempre sulla carta magari ci fa dieci gol ma il mondo ha detto che non era un bomber considerando la registriamo questa puntata però lo dico considerando poi sulla carta le difficoltà no no l'almanacco si si c'è al momento dice quello della carriera di Puskas però a gennaio resta comunque un acquisto importante perché poi chi attaccante vai a prendere è anche difficile per me a gennaio hai preso un top player è difficile hai preso un giocatore Polito che dalla Serie A che magari aveva poco spazio lì e quindi su che dire anche lei vi ho fatto tutti una figuraccia tutti si diceva ma no che dire tecnicamente non è un bomber non ha mai segnato in vita sua e poi ci ha ha trovato ma è cresciuto tantissimo così come sta crescendo Benali non lo so se avete sentito visto anche i social ma Benali è uno dei calciatori che in questo momento sta piacendo tantissimo la tifoseria beh io Benali francamente ero innamorato dei tempi del Pescara quindi non mi sorprendo ecco che certamente a Bari sembrava un po' fuori dalla addirittura si parlava di e potesse essere ceduto quindi però come valore come valore non mi sorprende si sta conquistando il rinnovo di contratto in scadenza giugno 2024 per me sono meritatissimo meritatissimo ancora pausa pubblicitaria a tra poco con la terza parte del Bianco e Rosso TV Sport audacia attenzione avventura Suzuki 4x4 fuori dai luoghi comuni Car Service Bari concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bat viale Iapigia 243 Bari Suzuki Car Service Bari nel cuore di Bari ancora più saldi a City Moda trovi tutto al 50% nei reparti donna e bimbo su un'ampia selezione di articoli seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook Codes società di ristrutturazioni edili interni ed esterni installazione e manutenzione di impianti di condizionamento riscaldamento idrici e fognari dalla progettazione alla manifattura Codes SRL e a Modugno in via Brescia 4D mail codessrl.info chiacciolagmail.com whatsapp 375 817 0098 questa è una storia che conosci già è una storia di valori una storia di qualità una storia di vicinanza una storia di convenienza una storia di amicizia una storia che diventa ogni giorno più forte che mai prodotti a marchio Sigma nella tua storia da sempre nella tua spesa da sempre scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram WMB Viaggi pacchetti vacanze a quote fisse e vantaggiose vienici a trovare in una delle nostre agenzie siamo a Bari in via Brigata Regina 72 via Giuseppe Fanelli 221 via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano WMB Viaggi.it Farmacia Cavallo sempre al servizio del cittadino aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13 vasta gamma di prodotti dermocosmetici integratori alimentari farmaci da banco molteplici servizi farmacia Cavallo in viale Papa Pio 12esimo 48B a Bari Ancora insieme sempre in studio con Jessica Ramosi Antonello Raimondo Jessica abbiamo messaggi abbiamo cose da mostrare dal web e non solo perché abbiamo appena saputo che due calciatori Valerio di Cesare e Giuseppe Sibili saranno giovedì 25 cioè domani alle 16.30 nel Official Store Stadium per il meet and greet con loro e solo per questo evento chi acquisterà una maglia ufficiale potrà usufruire della personalizzazione gratuita perfetto con anche poi una firma copia con il capitano Valerio di Cesare va bene e comprare la maglietta e Beppe Sibili ma quale ceglieresti? perché ora tutti si stanno lamentando noi vogliamo la maglia bianco-rossa né blu né colorata no io pure sarò sarò vecchio e antico anche io ma questo riguarda tutte le squadre cioè si usano magliette di colori a volte il Bari è in trasferta perché gioca con quella nera e gialla anche qua di colori potrebbero ma questo riguarda il calcio di oggi io dicevo del prezzo che spesso i tifosi si lamentano oggi le maglie ufficiali non del Bari no no in generale costano tante è una cifra è vero quindi dovrei fare un mutuo e poi comprarle e poi chiedere a Cesare di fotografare al capitano Jessica sì parlando sempre di Sibili lui ha postato un post sul suo profilo Instagram nel quale lui dice crede in te stesso crede nei tuoi compagni di squadra sogna sempre come se tutto si avverase due punti persi ci possono far cambiare l'umore questo post di Beppe Sibilli ma non i nostri sogni ovviamente hanno commentato quasi tutti tra cui come si vede qua Venali e anche Emanuele Mattino dicendo tutti insieme fratello sei forte tra l'altro ci sono stati anche molti messaggi anche a Kuzupias da parte dei compagni di squadra che non vedono l'ora che lui che lui rientri in campo ovviamente Beppe Sibilli sette gol in campionato resta un fattore di questo non aveva mai fatto tanti gol in carriera anche lì potevamo dire ma come Polito prende questo e no invece è stato un giocatore non solo per i gol a me piace sempre sottolineare che è stato un giocatore determinante per il suo modo di stare in campo per la sua capacità di prendersi le responsabilità di rischiare la giocata dispiace un po' io se fossi un suo amico gli direi cosa hai sbagliato finora perché a 27 anni giocare ancora in B un giocatore anche fisicamente forte vuol dire che è qualcosina magari un po' di sfortuna anche ma non solo però il Bari se lo gode secondo me Polito ha fatto veramente un gran colpo poi bisogna vedere il discorso continuità perché questi giocatori qui a volte fanno una stagione bene e una male però finora il mio voto e il mio giocatore mi ha chiesto prima e il mio giocatore io ragazzino oggi chiederei la maglia a Beppe Sibilli di Beppe Sibilli anche quello che infiamma il pubblico con le sue giocatze anche nelle giornate da sempre sì la sensazione di poter creare sì è vero e allora siamo pronti anche con la nostra rubrica dedicata ai tifosi in trasferta curata poi da Roberta Maffei sentiamo come è andata anche allo stadio del Duca di Ascoli Noemi e Silvio siamo al Del Duca di Ascoli ci volete spiegare un po' come siete arrivati fino a qui? noi veniamo da Roma ma lei per amore c'è che ha nei miei confronti e io per amore della mia città e della mia squadra la seguiamo ovunque quindi lei è un po' costretta a seguirti per questo amore che provano ai tuoi confronti vabbè di conseguenza diventa una passione anche per me quindi va bene così gita fuori porta è partita viaggio in macchina non è stato troppo pesante ha aiutato una buona giornata speriamo di divertirci voi siete giovani da cos'è nato questo amore? è una passione che porto da sempre con me soprattutto grazie a mio padre fin da piccolo seguo sempre il Bari in ogni stadio in treno in treno un po' trasferta vecchio stampo diciamo che tipo di ruolo ha questo stadio nel tuo passato? c'è qualche ricordo particolare? veramente sì su tutte ricordo una del 93 che diciamo ci ha portato è stato un campionato memorabile in quanto si è concluso con una nostra promozione in Serie A hai per caso un episodio divertente da raccontarci di questo trasferto in generale? ce ne sono tantissimi di aneddoti da ricordare anche purtroppo che riguardano persone che purtroppo non ci sono più magari su tutte la Udine dove magari un nostro amico che diciamo dei cioè come vogliamo dire ne fece uno al megaforo e praticamente anche le forze dell'ordine sorridevano perché fu un episodio particolare insomma il grande Massimino ricordiamolo perché è un grande sempre belle ed emozionanti sono le storie anche di tifosi in trasferta storie incredibili poi di amicizia di aggregazione di passione verso il Bari quando insomma ora purtroppo non più seguivo il Bari in trasferta mi piaceva sempre fuori chiacchierare con loro andarli a trovare una volta stavo morendo perché per salutare il gruppo di Ultra che era chiuso in un parcheggio e ora Bergamo in un'atmosfera salutato tutti gli amici ragazzi Antonello li saluto mi giro e vedo arrivare degli Ultra dell'Atalanta io ero in un angolo vieni l'ingresso della sala stampa a 100 metri accelerai il passo e lì ho rischiato la pelle perché in quelle piazze se sbagli a muoverti non mi avrebbe salvato nessuno tra l'altro i tifosi stanno già chiedendo quali saranno i posticipi e anticipi fino a maggio vogliono organizzare i viaggi purtroppo bisogna ancora attendere perché non almeno la trasferta di Catanzaro più bella che è rimasta del calcio che è diventato molto business pochi valori anche giocatori le bandiere non sono più le magliette ne parlavamo prima però la passione della gente rimane veramente la cosa più bella la supercoppa italiana in arabia c'è gente che io anche se poi impazzisco quando sento un uomini di calcio come Sarri che guadagnano 3-4 milioni d'anno che si lamentano di cose che lui conosce al momento della firma che il calcio è questo lo sa bene a luglio quando firma se lo scorda poi si lamenta che poi possa dire cose giuste sì quindi non tocchiamo mai la passione dei tifosi poi i tifosi a volte esagerano sbagliano specie quando magari anche a Bari parliamo ma è tutto per troppo amore non perché qualcuno goda a criticare un tifoso è fatto così poi la perdi la partita è così in ogni piazza a proposito di passione di idoli ti chiedo anche se è un ricordo legato poi al grandissimo Gigi Riva ma a Gigi Riva non c'è un ricordo è la sensazione che avevi di essere di fronte al mito per me Gigi Riva è panatta il mito di uno sport Gigi Riva è il calcio poi ho sempre avuto la sensazione confermata da amici comuni come Antonello Valentini come il presidente Matarese di un uomo mite di un uomo serio di una persona stupenda di un'immagine fantastica del calcio italiano ed è una morte che mi ha toccato perché Riva è la storia come un po' Rivera Mazzola i Baggio i Totti del Piero sono quei giocatori che segnano epoche ma vanno anche oltre quelle epoche io credo che anche un ragazzo oggi studiando calcio sappia o capisca cosa ha rappresentato Riva che è Gigi Riva Jessica torno da te siamo quasi in chiusura stavo vedendo un attimino i profili dei calciatori ho visto che c'è stato il compleanno della figlia di Mattia Maita quindi le facciamo un grandissimo gli auguri alla bambina due anni credo che ha compiuto Maita che tra l'altro sarà il prossimo ospite di A Tutto Campo quindi se avete qualche domanda qualche cosa da chiedere a Maita sapete che potete scrivere anche sotto questa diretta e magari la ricavo per chiedete di se è calato o no però io lo sto vedendo in crescita non so se siete d'accordo sul piano anche delle prestazioni è un Maita diverso rispetto io sono un tifoso di Maita quindi sì assolutamente sì anzi ci sorprendiamo magari del calo nel secondo tempo che poi a volte un calo ci può stare e non dipendere da una questione puramente atletica può capitare che un giocatore in un tempo riesca a esprimersi nell'altro meno ecco perché la domanda io ne la farei ma sei calato perché eri stanco perché ha avuto magari perché il Bari nel suo complesso ha sofferto l'aggressività dell'ascolo che è una squadra molto molto aggressiva Antonello Bari Reggiana difficoltà per la formazione di Nesta squalificati Portanova Girma Cigarini si è infortunata anche Romagna hanno delle difficoltà di organico però è chiaro che poi tutte le partite in questo momento della stagione sono complesse e complicate ma sì perché comunque magari giocherà gente che finora è stata impiegata meno che sarà motivata di più può darsi che giocheranno giovani quindi gente che corre però il Bari sicuramente anche con la regione al completo ma l'abbiamo visto anche all'andata credo che abbia una rossa superiore e in questo momento non abbia alternative alla vittoria quindi non mi interessa nemmeno questo discorso del bel giuoco che si parla sempre di come si gioca è importante vincere ma è come in questo momento il Bari deve essere una squadra sì propositiva ma concreta concreta non vuol dire lasciare la palla all'avversario vuol dire essere intelligente capire quando si può attaccare quando c'è da soffrire ma non come ha fatto ad Ascoli consegnare la partita all'avversario perché poi l'avversario cresce nell'arco della stessa gara quindi io spero che Marino continui in questo suo percorso il Bari oggi secondo me le sue squadre sono sempre state molto organizzate identità proposizione oggi questo io lo vedo a sprazzi mi auguro che Marino riesca a fare in tempi brevi perché purtroppo il tempo stringe abbiamo ancora un passaggio della conferenza stampa di Puskas di ieri lo sentiamo insieme poi siamo praticamente ai saluti io fisicamente sto bene non ho problemi è solo la questione di minuti che non ho fatto tanto ultimamente e quindi bisogna giocare bisogna sentire lo stadio il campo e piano piano si arriva e qua ancora voglio andare ancora di più voglio voglio aiutare la squadra con i gol voglio esultare la curva dove l'ultima volta non è esultato quindi questa è una cosa importante sì non io ho giocato tanto 4-3-3 mi sono sempre sentito bene in questo modulo poi ho giocatori di fianco rapidi tecnici che mi danno una mano che comunque sono veloci e creano spazi io provo provo a starli vicini provo a creare spazi per loro provo a lottare su ogni pallone e provo a chiudere ogni azione che comunque loro iniziano il capitano ha questa voglia di giocare ancora e di portare questo club diciamo sempre lassù mi impressiona e quindi lo ringrazio e spero che insieme non solo con lui ma con tutti gli altri possiamo raggiungere un grande traguardo questo Puskas Jessica Puskas Ragnar io per me sarà sempre Ragnar come vedete in questa immagine è uguale ti piacciono? è uguale è uguale basta che gli facciano le trecce eccetera ed è completamente uguale così sembra anche un po' Roberto Baggio l'importante per me sarà Ragnar l'importante che faccia che faccia quello che corra perché io l'ho visto un po' lui ha detto che sta bene diciamo che l'ha entrato nel momento la somiglianza è notevole è entrato nel momento peggiore sì anche perché il Bari in quel momento stava facendo poco però mi è parso non brillantissimo ci può stare siamo all'inizio chiudi alla tua maniera Antonello un pensiero in libertà niente io torno a dire il Bari deve far presto secondo me perché poi al di là del fatto che la stagione si può decidere i playoff però devi trovare prima possibile una tua identità un 11 base e un modo di giocare che sia riconoscibile perché il Bari ha cambiato Marino con Mignani anzi a me un giorno piacerebbe chiedere a Polito se avendo guardato poi che certe difficoltà si sono confermate se è pentito non se tornasse indietro di quella scelta perché lui credo fosse convinto che il modo di fare calcio di Mignani frenasse e poi si è visto che la squadra ha dei problemi che vanno oltre il modo di intendere calcio di quel pirla di Mignani un grazie ad Antonello Riemondo giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Jessica il tuo momento ora si rimanete con noi perché parleremo di altri sport soprattutto di Muay Thai quindi rimanete qua pubblicità Elettrica Armenise è impiantistica elettrica da quasi 20 anni e realizza impianti per case private condomini e attività commerciali utilizziamo esclusivamente materiali certificati di alta qualità per garantire impianti sicuri e affidabili progetti eseguiti in conformità alle norme europee specialisti nell'installazione di antenne per il digitale terrestre parabole Sky impianti di sorveglianza a circuito chiuso e nell'automazione dei cancelli professionalità prontezza e affidabilità al vostro servizio non sceglieteci a caso avete i migliori motivi per affidarci la vostra azienda o la vostra casa Elettrica Armenise Via Lucera 9 Modugno Bari o armeniseimpianti.it L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina Follow Bus viaggia in tutta sicurezza tra Puglia Basilicata e Campania prenota subito su busmiccolis.it Volkswagen è ancora più per tutti con la gamma Edition Plus tutto quello che desideri oggi è incluso ad esempio nuovo Tiroc Edition Plus da 199 euro al mese da 6,99 Taegotto e 16 anche sabato e domenica scopri la gamma da Volkswagen Zentrum Bari dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole i buongustai salumi di qualità l'eccellenza del crudo guascone stagionatura 18 mesi capocollo riserva stagionatura 5 mesi salsicce come una volta i buongustai salumi cercali nei migliori supermercati e salumerie anche su Facebook e Instagram di salsicce come una volta Radio Bari, io me la sento, tu te la senti? Progetti eseguiti in conformità alle norme europee, specialisti nell'installazione di antenne per il digitale terrestre, parabole Sky, impianti di sorveglianza a circuito chiuso e nell'automazione dei cancelli, professionalità, prontezza e affidabilità al vostro servizio. Non sceglieteci a caso, avete i migliori motivi per affidarci la vostra azienda o la vostra casa. La quarta e ultima parte del TV Sport Buonasera a tutti, ho detto bene, ho pronunciato bene? Sì, sì, è giusto, è giusto, Muay Thai Muay Thai Mattia, io vorrei iniziare a parlare con te perché tu ha solo 16 anni, sei riuscito anche ad ottenere un bellissimo titolo, quale? Raccontami un po' Allora sì, il 2 dicembre siamo riusciti a conquistare questo titolo, abbiamo fatto un evento a Bari, il maestro ha organizzato un evento a Bari Siamo riusciti a performare e quindi a portare a casa un titolo importante, il titolo da UBC Under 18 Che comunque è un gran risultato Fallo vedere, questa è la cintura che hai vinto, giusto? Sì, sì Bellissima Cosa provi quando magari vinci contro ragazzi più grandi di te? Perché se non erro la gara era Under 18, giusto? E tu hai 16 anni Sì, sicuramente è un'emozione unica perché ci si sente ricompensati dopo tutti gli sforzi e sacrifici che si fanno durante la preparazione, durante l'allenamento Quindi è comunque un'emozione che pochi sport possono dare e secondo me questo in particolare può darti più di molti altri Parliamo adesso con il tuo maestro, maestro Renzo, raccontami un po' il Muay Thai per chi non sa in cosa consiste questo sport Allora, il Muay Thai è un'arte marziale che nasce in Thailandia, si differenzia dagli altri sport perché in più ci sono dei colpi di gomito, di ginocchia Oltre ai pugni e calci e c'è anche una fase di lotta dove si sono ammesse delle proiezioni E rispetto agli altri sport è un po' più completa, ecco, anche per una questione di difesa personale Sì, tipo box, kickboxing, no? Però magari puoi utilizzare più parti del corpo, giusto? Non proprio, però ci sono più parti del corpo, sì, sì, molte più parti del corpo Mattia, perché hai scelto questo sport? Non è uno sport magari che scelgono tutti, no? Quindi che cos'è che ti ha spinto a portare, a praticare questo sport? Allora, se io nel maggio del 2021 iniziò ad allenarmi con un mio amico per gioco, diciamo Andando a correre la mattina presto e cercando di provare a bozzare una specie di allenamento, di sport da combattimento Poi quando finì il lockdown, con l'apertura delle palestre, provai ad iscrivermi appunto a questo sport E effettivamente mi piace tanto, tanto che decisi di provare l'attività agonistica E poi da quel momento ho continuato Quindi è nato per caso, diciamo Sì, diciamo che sì E sei rimasto, rimarrai immagino anche per molto Poi parliamo dei tuoi obiettivi Prima però vorrei parlare di pallavolo E vorrei parlare della Serie A3 nella quale la Just British Bari vince contro Leo Schuss Casarano Il risultato 3-0, la prossima partita si svolgerà domenica 28 contro San Giustino Passiamo alle squadre di Serie B Tredicesima giornata di campionato L'Indeco Molfetta vince il derby contro il Turi Punteggio finale 3-0 Il Grottaglia ancora capolista mentre attende l'uscita del calendario della Coppa Italia Continua a mantenere l'imbattibilità assoluta in campionato 12 su 12 L'ultima contro Afragola per 3-0 Le altre vittorie come quelle di Gioivoli contro Ruffano per 3-0 O il Modugno che vince per 3-2 contro il Marigliano Ecco qui le immagini Poi però meno affortunata c'è stata la SNS Cusbari che perde per 3-0 contro la Green Bolli Vediamo anche ora la classifica E approfitto per comunicarvi che ci sarà una sosta del campionato di due settimane E il campionato riprenderà il 10 febbraio Torniamo a parlare di Muay Thai Maestro, quali sono i valori di questo sport? I valori di questo sport in primis abbiamo il rispetto Rispetto per l'avversario, rispetto per il maestro Il rispetto è fondamentale perché nonostante tutto magari chi lo vede da fuori questo sport Può pensare che sia uno sport violento Assolutamente no Anche perché è uno sport che può praticare chiunque Dal bambino che consiglio ai bambini di praticarlo Consiglio ai genitori di farlo praticare ai bambini Fino ad arrivare alle donne E quindi dico il rispetto è fondamentale Si cresce tutti insieme Ed è rispetto, perseveranza, passione Ci vuole tanto umiltà per praticare questo sport Hai detto che non è uno sport aggressivo Però comunque io vedo che un po' malino ci si fa Mattia ti sei mai fatto male? Hai paura magari di farti male? Allora paura di farmi male no Perché comunque quando si sale sul ring L'unica paura è di non performare Di non riuscire a portare a casa la vittoria Però può succedere ovviamente di farsi male Ma non bisogna avere paura Perché se si ha paura di farsi male Non si può fare questo sport secondo me Come vi preparate allora alle gare? Te come maestro e te come atleta? Allora con lui c'è tutta una preparazione Che viene fatta prima Facciamo un allenamento ai colpitori Dove si... È come se fosse uno sparring Lo sparring è come se fosse uno contro l'altro Quando si fa allenamento E quindi c'è tutto questo lavoro Fatto da non soltanto di un singolo round Ma ci sono diversi round da tre minuti Che ci porta a fare questo tipo di lavoro E poi c'è un lavoro di sparring partner Con gli altri ragazzi con cui lui si allena Poi lui va a correre Insomma c'è un allenamento Non da poco dietro Se uno vuole performare in una certa maniera Cosa è la cosa che ti piace di più Degli allenamenti? Scusami No ci mancherebbe Cosa è quello che ti piace di più? Sicuramente lo sparring Comunque i lavori che richiedono Una certa abilità tecnica Oltre che magari la corsa Che mi piace molto Perché anche a livello mentale È molto diciamo Importante Sì è molto importante Tutto parte dalla mente Anche per superare Anche Obstacoli Esatto La cosa che invece ti piace di meno Dell'allenamento? Boh niente La cosa che magari per te C'ha più difficoltà Qua il tuo maestro ride Quindi sicuramente qualcosa Rido perché lui è uno È uno dei pochi che Ah ok Nonostante l'età È sempre lì Sempre in palestra Io dico sempre Meglio in palestra Che non per strada Quindi lui poi è uno di quelli Che sta sempre lì Si allena Ha le idee chiare Nonostante la sua età Sono di 16 anni Secondo me ha le idee chiare Poi abbiamo visto anche nelle immagini Che utilizzate i guanti Giusto Per scegliere il guanto perfetto Cosa deve avere questo guanto per te Il guanto perfetto è una cosa molto soggettiva Secondo me Io infatti ho avuto anche diversi problemi alle mani A causa di comunque guantoni sbagliati O la troppa ripetizione dei colpi Diciamo Il guanto perfetto è una cosa prettamente soggettiva E non si può dire altro E non si può dire altro Perché per esempio Per altri sport Come per esempio L'atletica Il running C'è bisogno appunto Di scegliere la scarpa giusta E per questo Il nostro Michele caro figlio Ci farà conoscere Assieme allo store manager Di sport club Vittorio Varviero Quali sono le scarpe Adatte alla corsa Quindi sentiamo con un attimo Partiamo dalle caratteristiche Di una scarpa da running Come strutturata? Allora dipende dai modelli Dipende da tante le dinamiche di corso Di quante volte ci alleniamo in settimana Cioè non è facile rispondere a questa domanda In quanto le scarpe si suddividono in tre fasce Quindi una massima ammortizzazione Un'intermedia E una veloce Per tutti quegli allenamenti di velocità Poi è ovvio che dipende da ciò che desidera il cliente Diciamo che la scarpa da running Si sceglie in base Prima di tutto A cosa dobbiamo fare Se dobbiamo fare una gara di corsa su strada Oppure se dobbiamo fare una gara di corsa Sullo sterrato Quindi una gara trail È ovvio che la scarpa da trail Ha un battistrada diverso Da quella da strada Sulle gare di strada Ci sono vari tipi di dinamiche Quindi in base alla velocità di un atleta In base a quanto pesa Che scarpe da running consiglieresti per un atleta professionista? Beh, bella domanda Per un professionista sicuramente una scarpa molto veloce Una scarpa veloce Una scarpa con una piastra in carbonio Così gli dà un po' di reattività Però l'atleta professionista può correre anche senza scarpe Più o meno un professionista fa 200 km a settimana Quindi parliamo di tanta roba Certo ci sono anche tanti amatori molto bravi Molto in gamba Quindi le scarpe reattive vanno tutte per quella fascia di atleti veloci Che hanno un'andatura dai 4 a scendere Da 4 minuti a scendere a chilometro Voi di Sport Club che scelte potete dare al cliente? Beh, diciamo che noi di Sport Club ci distinguiamo Perché il cliente lo serviamo a 360 gradi Infatti facciamo un esame barapodometrico Dove andiamo a vedere il tipo di appoggio E da lì poi partono tutte le dinamiche Per consigliare la scarpa ideale Per correre bene e nel tempo Nel running abbiamo tutti i marchi di qualità Quindi partiamo da Asics, Oka, Adidas, Saucony, Mizuno, Brooks, New Balance Ce le abbiamo tutte Quindi ha una vasta scelta Grazie mille a Michele Calofiglio Comunque la prossima volta devo chiedere anche consiglio Per quanto riguarda il rugby Per le scarpe di rugby in base ai terreni Però lo faremo la prossima volta Io però voglio parlare con te maestro Perché volevo chiedere la palestra Qual è la storia della vostra palestra? Allora la palestra è stato un sogno realizzato Perché è nata nel 2017 La palestra si chiama CSC Combat Sports Center E si trova di fronte Pane e Pomodoro Per chi è di Bari la conosce bene Ripeto è stato un sogno che è nato nel 2017 Con un mio socio Ci tengo a dirlo Che si chiama Claudio Moruso Che poi è un ragazzo che mi segue dalla sua età E ha iniziato con me quando lui aveva 16 anni Quindi come Mattia E poi pian piano mi ha seguito Ha fatto un percorso E siamo riusciti insieme a realizzare questo vero sogno E siamo attivi dal 2017 Dal 2017 Mattia tu hai iniziato avevi detto nel 2021 Tanti ragazzi si avvicinano Tanti ragazzi E anche ragazze avevi detto Sì, molte ragazze Abbiamo visto anche in diversi vidi Che ci avevi mandato Molte ragazze Molte ragazze che si avvicinano anche ai combattimenti A volte dico che sono piuttosto le ragazze dei ragazzi È vero? Sì Allora parlando di combattimenti Vorrei chiederti Quando gareggi Se vieni sconfitto In chi trovi conforto Come realizzi tu magari la sconfitta Ovviamente quando vinci Diciamo che Questo ti stimola ulteriormente Però anche la sconfitta Come la percepiscita? Sicuramente la sconfitta io penso che debba essere presa come un insegnamento Quindi una lezione Per provare a fare di meglio Però comunque è importante sempre avere di supporto persone che sia al proprio fianco Come appunto il maestro La famiglia La famiglia, gli amici che anche nel momento di sconforto diciamo Sono al tuo fianco Parliamo dei prossimi obiettivi Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sicuramente continuare a vincere tutto ciò che è possibile E poi sicuramente anche passare al professionismo Ma c'è qualche combattimento di recente? Sì, il 4 febbraio combatteremo a Lecce A Lecce il 4 febbraio Mi raccomando che poi ci devi raccontare come è andata Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo Per te maestro invece la palestra farà qualche evento, qualche sedizione? Sì, il prossimo evento lo faremo sicuramente in quest'anno penso verso dicembre Dove organizzeremo sicuramente altri titoli E penseremo anche di fare qualcosa in più per Mattia Che se lo merita Che se lo merita Ragazzi grazie mille Grazie per essere stati oggi qua con noi Averci raccontato appunto di questo sport In bocca al lupo per il 4 febbraio Noi ci vediamo domani con un altro appuntamento di TV Sport Questo Noi ci vediamo domani con un altro appuntamento di TV Sport